Rimangono diversi punti oscuri attorno alla ricostruzione dell'incidente ferroviario avvenuto a Fenza domenica sera. Trenitalia ha spiegato lo scontro, evidenziando come l'Intercity Frecciarossa si è retrocesso per inerzia andando a sbattere contro il regionale fermo al semaforo rosso. Non è tuttavia stato chiarito cosa ci facesse il Frecciarossa oltre il semaforo, se la manovra fosse stata autorizzata o meno, e se sia stata condotta alla cieca nonostante alle spalle ci fosse il regionale, o se invece la cabina di coda era presidiata dal personale. In tutto questo il manifesto ha adombrato possibili negligenze citando una chatta fra macchinisti, e proprio uno dei due macchinisti risulta ora indagato dalla procura di Ravenna per disastro ferroviario colposo. Si tratta di un 44enne residente in provincia di Venezia, avvisato dalla magistratura come atto dovuto in previsione della consulenza tecnica che verrà affidata nei prossimi giorni per stabilire le cause dell'incidente. Nella ricostruzione sempre di Trenitalia, invece, l'amministratore delegato di RFI Strisciuglio non avrebbe palesato al personale a bordo la propria presenza, non interferendo quindi sul lavoro dei macchinisti come invece sostenuto sempre dal manifesto. Tornando ai punti oscuri dell'inchiesta, a sollevare maggiormente i dubbi sono gli spostamenti del Frecciarossa. Sempre nella chat dei macchinisti si parla di un guasto all'Intercity. La rottura potrebbe spiegare la posizione lungo la linea ferroviaria del treno. Tuttavia il conducente dovrà chiarire per quanti metri è retrocesso il treno, e come mai non ha rispettato la distanza di sicurezza dal regionale. Se invece non si è trattato di un guasto, bisognerà ricostruire le cause dell'arresto dell'Intercity e come mai si trovasse oltre il semaforo. Fondamentale sarà poi analizzare le comunicazioni fra i treni e la centrale operativa, non escluso infatti che alla base dell'incidente ci sia un errore commesso da remoto.